L'emergenza da Covid-19 ha aggravato le situazioni di povertà già esistenti e ne ha create delle nuove. In alcuni territori i strascichi sono ancora ben evidenti. A Napoli, nonostante le centinaia di iniziative solidali messe in campo nell'ultimo anno e mezzo, c'è ancora tanto da fare per aiutare i cittadini in difficoltà. Ecco perché il panaro, simbolo di generosità partenopea nel primo lockdown torna di moda come simbolo di generosità e aiuto. A Soggioca ha infatti lanciato un'iniziativa Un Paniere per Te. Si tratta di un'anzione a sostegno, a distanza, alle famiglie in stato di necessità che tramite il web darà sollievo e vicinanza. Così Gianfranco Wurzburger. Abbiamo realizzato questa piattaforma, unpaniereperte.it, dove è possibile fare la spesa virtuale, ma è una spesa che si concretizza nel dare generi alimentari prima necessità alle persone bisognose, alle persone che comunque vengono già assistite dalla nostra rete di associazioni. Infatti il progetto è stato realizzato insieme all'associazione Le Viole e Zimmerman, Le Viole di Partenope. E vogliamo comunque continuare ad assistere queste persone in un momento in cui i poveri stanno aumentando. Presentata in risposta al bando APS o DV della Regione Campania, l'iniziativa punta a offrire beni di prima necessità, lezioni, attività sportive, visite e consultori medici per i cittadini. Bruna Fiola, presidente della Sesta Commissione Permanente, Istruzione, Cultura, Ricerca Scientifica e Politiche Sociali, spiega. Il Covid purtroppo ci ha portato a stare un po' più attenti anche a queste dinamiche perché ci sono molte famiglie purtroppo che ancora oggi vivono delle difficoltà economiche. Devo dire che Assoggio è stato sempre in campo per aiutare queste famiglie. Questa piattaforma ovviamente dà la possibilità a tutti di aiutare e di segnalare, non solo per quanto riguarda la questione alimentare, ma anche per mettere a disposizione delle professionalità per aiutare i ragazzi più bisognosi, quelli che si trovano in una difficoltà oltre che economica anche sociale. L'iniziativa è stata realizzata in partenariato con le associazioni Zimmerman e le Viole di Partenope, un'occasione di condivisione così la definita Don Tonino Palmese. La dimensione digitale alimenta ancora di più il senso di delicatezza nei confronti di chi è nel bisogno e anche la possibilità di entrare in punta di piedi. Per una volta o per tante volte il digitale ci permette di essere discreti e sobri nell'esercitare il ruolo della testimonianza, della carità e della solidarietà. E allo stesso tempo prendiamo atto davvero che ci sono tantissime famiglie che mentre prima abitualmente nell'indigenza si erano abituate a chiedere, oggi ci sono tante famiglie che non essendo state mai nell'indigenza hanno anche un grande timore, vergogna e pudore nel dover esporre la propria faccia davanti alla porta.